Un saluto a tutti voi dalla redazione, bentrovati al primo appuntamento con il nostro telegiornale del mattino. Cominciamo con la campagna elettorale, con la politica, con le campagne elettorali, meglio dire, perché ormai a pochi giorni dal voto, a meno di due settimane dal voto delle politiche, la campagna elettorale si intreccia con quella delle regionali, il cui voto non è stato ancora ufficializzato, anche se si parla del 22 aprile. Fatto sta che le coalizioni sono impegnate su due fronti ormai e proprio questo sovrapporsi della campagna elettorale provoca frizioni all'interno del centrodestra e del centrosinistra, che sono alle prese con le scelte per le candidature. Se Parenzo Di Giacomo deciderà il tavolo nazionale, nel centrosinistra è rissa per chi ripropone frattura e chi invece chiede discontinuità. Sentiamo. Convocato da Anna Elsa Tartaglione, si è riunito domenica sera a Isernia, presso la sede di Forza Italia, il tavolo del centrodestra, per analizzare l'andamento della campagna elettorale e per discutere sulla scelta del candidato presidente alla regione. Le posizioni sono rimaste pressoché immutate con i piccoli partiti e singoli esponenti politici che vorrebbero ufficializzare da subito la candidatura del giudice Enzo Di Giacomo, mentre i partiti maggiori, Forza Italia e Lega, pur riconoscendo la validità e la scelta, hanno rinviato il tutto alla decisione del tavolo nazionale. Il consigliere regionale Salvatore Micone, il quale partecipa tuttora alle riunioni di maggioranza del centro-sinistra convocate da Paolo Frattura dopo essere stato eletto con il centrodestra, tornato all'ovile, ha perfino alzato la voce e ha proposto di sottoscrivere un documento per ufficializzare subito la candidatura di Enzo Di Giacomo. Al termine dell'animato confronto però il documento non è stato firmato e dunque si attende ora la decisione finale che assumerà il tavolo nazionale, una decisione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e dunque prima del 4 marzo. Nel centro-sinistra invece il centro-democratico, alleato con il PD di Renzi e di Frattura alle politiche, chiarisce la sua posizione rispetto alle regionali, chiede discontinuità rispetto al governatore e bacchetta per Paolo Nagni e Vittorino Facciolla i quali nelle scorse ore avevano ribadito che Paolo Frattura non si tocca. Non possiamo non notare che in questi ultimi giorni sono stati fatti degli appelli da parte di solisti del centro-sinistra, degli appelli che sono sembrati semplicemente delle fughe in avanti, stonate per Giunta, delle affermazioni di chi sarà il candidato presidente del centro-sinistra, cosa che sicuramente è ancora tutto da decidere, è ancora tutto da definire perché ci sono delle situazioni che verranno definite un pochettino più in là. Praticamente noi ultimamente abbiamo sentito dei magnificat fatti da queste persone di centro-sinistra, da questi solisti, dei requiem fatti dal centro-destra nei nostri confronti del centro-sinistra. Io vorrei ricordare a tutti quanti a me stesso che per il momento queste cose ancora non sono diciamo fattibili in quanto ancora non sono stati individuati i direttori di orchestra di questi orchestrali, di questi solisti e ancora non vengono distribuiti gli spartiti, quindi sono delle fughe in avanti perfettamente inutili perché i direttori di orchestra di queste musiche ancora devono essere definiti. Il 25 febbraio definirete il vostro direttore d'orchestra come Olivo 2.0? Come Olivo 2.0? No, come, ripeto, sempre come coalizione Olivo 2.0 Democratica e Centro Democratico sarà definito il nostro candidato presidente. Peraltro Pierparo Nagni nei giorni scorsi aveva lanciato l'appello per l'unità del centro-sinistra a Danilo Leva, a Antonio Di Pietro e perfino ad Aldo Patriciello. Un appello evidentemente frutto della solitudine e della disperazione di un centro-sinistra distrutto da cinque anni di malgoverno regionale, da intrecci perversi tra affari e politica e da conflitti di interessi. Un appello che di certo non produrrà alcun riscontro positivo se Paolo Frattura dovesse essere ricandidato alla presidenza della Regione. E torniamo a parlare di garanzia giovani perché in Molise sono stati assegnati 6 milioni di euro per la prosecuzione del progetto, un'iniziativa accolta con favore dalla Will che però avverte che occorre un cambio di passo. Anna Maria Di Matteo. Ammonta ad oltre 6 milioni di euro il finanziamento destinato alla prosecuzione di garanzia giovani Molise. È stato infatti firmato il decreto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e Occupazione per la ripartizione delle risorse tra le regioni. Si chiude così la fase intermedia della programmazione 2014-2020. Dalla Will la segretaria regionale Tecla Boccardo ha colto positivamente il provvedimento ma al tempo stesso ha ribadito la necessità di un cambio di passo rispetto al passato, una vera e propria inversione di rotta. Il sindacato va subito ascoltato e coinvolto nella programmazione ha dichiarato e non tagliato fuori o ascoltato frettolosamente come accaduto in passato. Non un euro può andare sprecato, ha aggiunto la Boccardo. Occorre cogliere questa opportunità per contribuire a realizzare una prospettiva per i nostri giovani, soprattutto per quelli di età compresa tra i 15 e 29 anni che non sono iscritti a scuola, non frequentano l'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale. Nel nostro paese sono più di 2 milioni, un quinto della popolazione di riferimento, ha ricordato la segretaria regionale della Will, che ha anche detto stoppa l'uso indiscriminato e massiccio di risorse destinate e tirocini, aree di parcheggio che favoriscono più datori di lavoro che sfruttano che i ragazzi che coinvolgono, ha denunciato la Boccardo. La Will ha annunciato che sarà vigile affinché il pacchetto di garanzia giovani venga attuato nella marina raccorretta e ha lanciato un messaggio forte e chiaro alla prossima classe politica che andrà a governare il Molise. Aspettiamo al Varco coloro che saranno chiamati a gestire la regione in qualità di autorità intermedia di gestione e titolare della programmazione e dell'utilizzo delle risorse assegnate. Ha concluso la Boccardo. Ora diamo uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo oggi in edicola nella rassegna stampa. Cominciamo con il giornale del Molise che apre con la storia di Molise e dati, una storia di inciuci e clientele che da due mesi i dipendenti e i dirigenti non percepiscono tra l'altro lo stipendio. E poi ospedali pubblici, scarabeole, imprese locali svantaggiate dal bando per la manutenzione. Da Termoli 25 anni fa nasceva la chiesa di Santa Maria degli Angeli, parrocchia in festa per l'anniversario a difesa grande. Da Isernia, la fatalità di un istante, presentato il nuovo romanzo di Denise Lorella Narducci e poi ancora la politica con la Venitelli, deputato uscente del Partito Democratico, votare PD per interessi del Molise, accusa Iorio e i Cinque Stelle. La cronaca incidente stradale sulla statale 158 all'altezza di Colli al Volturno. Due persone sono rimaste ferite. Siamo ai giornali locali che troveremo oggi in edicola. Vediamo la prima pagina di primo piano. La campagna elettorale in evidenza. Regionali il centrodestra ripassa la palla a Roma. Continua il pressing dei cespugli sui partiti principali della coalizione. Per la candidatura alla presidenza di Enzo Di Giacomo, ma Iorio e Lega non mollano. Se ne parla dopo il 4 marzo. E a tirare invece la candidatura di Enrico Colavita ci ha pensato il ministro Calenda. Il Paese ha bisogno di gente seria. Ha detto, mentre Pietracupa parla di spopolamento, serve un modello basato sui giovani. La Venitelli infuoca il clima e attacca. Iorio replica, sale lo scontro. Nel cassettone invece due notizie di tenore diverso. La cronaca nella notte a Montaquila, furti a raffica, svaliggiati due barre, rubata un'auto. E poi parla il sindaco di Roccasicura. Oro sparito, la diocesi si costituisca parte civile. Di spalla, impiantistica sportiva assegnati 21 milioni dalla giunta regionale. E poi una vicenda di cui ci siamo occupati anche nel corso dei nostri telegiornali. Ieri a Campobasso, errori nelle bollette, file interminabili. Per quanto riguarda lo sport per i play-off, ultima chiamata per il Campobasso col Castelfidardo. A Selvapiana, domenica, un avversario in forma. Vediamo la prima pagina del quotidiano, che invece punta sulle dichiarazioni del ministro Calenda, che interviene in campagna elettorale con la vita e la persona giusta. Endorsement del ministro al candidato al centro-sinistra, uomo di grande qualità, che ha dimostrato di saper fare. Sempre per quanto riguarda la campagna elettorale da Forza Italia, il candidato Nunzio Luciano ha incontrato i vertici dell'ACEM. Il Molise può ancora crescere, ha detto. E per le regionali, centrodestra di Giacomo scioglie le riserve, potrebbe uscire allo scoperto il presidente del tribunale di Isernia. La regione investe sullo sport, dal patto per il sud, 21 milioni per 70 comuni. E sempre poi, per quanto riguarda le elezioni, Pietracupa ascoltare i giovani e gli anziani. La docu-fiction, una terra chiamata Molise, tre puntate al termine, è partito il countdown per la docu-fiction. Mancano solo tre settimane, ma è un lavoro che interesserà solo il web. Richiamo di sport del Duca, la rimonta non è facile, ma noi diamo tutto. Da campo basso invece in prima categoria, Tris della post-disportiva Calena all'Altilia Samnium. Il bando Asrem per la manutenzione degli ospedali e l'apertura di futuro Molise interviene Scarabeo. Le imprese locali sono svantaggiate dai requisiti del bando, così l'economia molisana non cresce. E poi, una vicenda che non è ancora risolta, il giallo della molisana Irene Cristinzio, scomparsa da tantissimo tempo ormai in Sardegna, è stata chiesta l'archiviazione del caso. Truffa ai danni dell'erario a Campobasso, nel mirino della Guardia di Finanza, un'agenzia immobiliare della provincia. E poi, da Larino, grande successo per la 43esima edizione del Carnevale, che era stato rimandato per il maltempo. e si è svolto nel fine settimana la vittoria del carro Tempi Moderni. Diverse le aperture dei quotidiani nazionali, ma comunque con l'occhio sempre rivolto sulla campagna elettorale, la prima pagina del Corriere della Sera, Via 497 Operai, Ira di Calenda, la Embraco conferma i licenziamenti, il ministro irresponsabili, ora basta, respinta la proposta del governo di Cassa Integrazione, la questione arriva fino a Bruxelles. E poi, nel cassettone, Forza Italia vuole pescare tra i neoeletti delusi, gentiloni, niente canone per 350 mila over 75, e l'elenco delle promesse elettorali si allunga ogni giorno di qualche tassello, di qualche pezzo di un mosaico, che comunque costerà sicuramente qualcosa. Dicono gli esperti che i programmi elettorali, che siano di centrodestra o di centrosinistra, costano tra i 150 e i 300 miliardi. Nella foto centrale, la nuova segretaria della CDU, dopo Angela Merkel, si chiama Annegret Kramp-Karrenbauer, e sceglie Annegret, lei l'erede della democrazia cristiana tedesca, del partito dei moderati, dei centristi tedeschi. L'acronimo AKK è stato già scelto dai giornalisti, l'acronimo di Annegret Kramp-Karrenbauer, e lei l'erede designata da Angela Merkel, a eleggerla formalmente, sarà il congresso straordinario di lunedì, tutto questo naturalmente in Germania. Vediamo la prima pagina della Repubblica, che sceglie la stessa apertura, cioè l'intervento del ministro Calenda, in piazza alla rabbia degli operai, Calenda intervenga l'Europa, l'Embraco conferma 500 licenziamenti, il ministro, un'azienda gestita da Gentaglia. Nella foto centrale, invece, c'è questa manifestazione che c'è stata davanti alla Casa Bianca ieri, alla Casa Bianca la marcia della generazione basta armi, gli attivisti sono sdraiati a terra, davanti ai cancelli della Casa Bianca, per chiedere la riforma della legge sulle armi. Le indagini che riguardano il figlio del governatore della Campania, De Luca, Renzi frena l'ira di De Luca dopo le dimissioni del figlio, il PD teme la Slavina del Sud. E sul mattino, invece, naturalmente la vicenda di De Luca finisce con un taglio più di rilievo, come vedete, la fotografia centrale del quotidiano di Napoli, attacca grasso De Luca, si vergogni contro di noi operazione camorristica e squadrista, ha detto il presidente della Campania, l'inchiesta di rifiuti, il governatore contro Fanpage, non è giornalismo, i pubblici ministeri, gare flop per creare l'emergenza, ci sono già sul web, o comunque sono state pubblicate, le intercettazioni, come sarebbe stato incastrato il figlio di De Luca, con un video con tanto di telecamera nascosta, stile Iene. E infatti il quotidiano di Travaglio e di Peter Gomez e Padellaro, il fatto quotidiano, apre sulla vicenda della Campania, rifiuti la stecca nella valigetta, sono qui per il governo De Luca, l'incontro tra l'ex boss, il numero uno dell'azienda regionale Ambiente, il dirigente eacolare, nel video di Fanpage, devo spiegare le situazioni, sono loro che mi hanno messo a ca, dice, parlando tra l'altro poi, di percentuale, e il partito dell'inciucio fa i conti dei responsabili, volta a Gabbana, se il 4 marzo finisce in stallo, in molti pronti per il governo, sono i calcoli che gli osservatori della politica stanno facendo nel caso in cui non ci fosse una vittoria chiara il 4 marzo di uno qualsiasi dei raggruppamenti. E il messaggero invece torna sulla storia di Calenda, dell'Embraco, aziende in fuga, Unione Europea sotto accusa, ma è curiosa la foto centrale, rissa in Cina per la valigetta nucleare di Trump, l'incidente durante il viaggio a Pechino tra gli 007 di Xi e gli americani, c'è stata una specie di baruffa, Trump e Xi a Pechino, un funzionario di Stati Uniti ha in mano la Nuclear Football, si chiama così questo meccanismo che consentirebbe naturalmente al Presidente degli Stati Uniti di utilizzare i codici nucleari. e il manifesto con un titolo che è tutto un programma sceglie la fotografia di Casini e Renzi avanti popolo perché? Perché l'ex Presidente della Camera che nasce politicamente come portaborse di Forlani, dunque nella democrazia cristiana più classica, è stato ospite alla Casa del Popolo di Bologna e dunque il titolo sfottò, possiamo dire, del manifesto su un refrain della sinistra avanti popolo, Casini superstar alla Casa del Popolo di Bologna parecchiata per Renzi e l'alleato democristiano l'incontro nel Fortino Emiliano, linea macinò di un PD che teme l'alluvione del centrodestra al nord e a due settimane dal voto Gentiloni taglia il canone Rai come abbiamo visto agli over 75 Renzi ha accolto Casini chiamandolo compagno e lui ha risposto qui mi sento a casa e intanto però Libero parla di maledetta sinistra il piano di Prodi per fregare il centrodestra il progetto prevede un'alleanza tra PD, 5 Stelle e Grasso i loro consensi superano il 50% e possono costituire una maggioranza solida i tre gruppi non andranno d'accordo ma non molleranno il potere. Vi faccio vedere l'avvenire è il quotidiano della conferenza episcopale perché sceglie un'apertura del tutto diversa una prima pagina completamente diversa rispetto a quelle che abbiamo visto finora Italia meno uguale per cure e salute davvero avvenire sembra diventato un quotidiano diciamo così vicino a posizioni della sinistra più estrema dall'osservatorio all'università cattolica la conferma di forti disuguaglianze a svantaggio del sud pesa anche il livello di istruzione a Napoli vita media ai tre anni inferiore a Trento e dopo l'Italia meno uguale invece c'è la battaglia della Chiesa embrione ibrido pecora uomo passo che scuote l'obiettivo organi compatibili per trapianti e però poi azzardo e utero in affitto a perli per regole strette gentiloni via il canone Rai la politica per 350 mila o per 75 e invece liberi e uguali lo attacca voto con legge truffa chiudiamo la rassegna con le notizie sportive della Gazzetta dello Sport e c'è qui possiamo utilizzare la parola endorsement mutuandola dalla politica perché Ancelotti promuove Gattuso intervista a Carletto racconta Ringhio ha studiato e sudato ha detto Ancelotti del allenatore del Milan che ha riportato i rossoneri insomma in posizioni più consone alla squadra così titolata in classifica quarto posto possibile per lui Suso e Calà sono un po' come i miei Seedorf e Cacca queste le parole di Ancelotti mentre fronte Lazio sul cassettone immobile spacca due gol sorpasso Lazio Spalletti ora e quinto ieri nel posticipo i bianco celesti hanno battuto il Verona per 2 a 0 e De Vrij rompe andrà via Inter in polma occhio alle big europee e poi a proposito di Europa Mbappé e Gigio con i 98 migliori under 20 mondiali mentre in taglio basso a dalle Olimpiadi di Pyeongchang discesa Von contro Goggia duello tra amiche del podio e Stefania e anzi sì la Goggia Sofia scusate ha promesso di salire sul podio comunque questo è quello che lei tenterà dopo la prova del gigante che non l'ha premiata e allora con l'appuntamento a stanotte alle 3 per chi volesse seguire la discesa libera dalla Corea del Sud per i giochi olimpici noi vi diamo invece appuntamento alle 14 per il telegiornale che è il prossimo appuntamento la nostra informazione intanto ringraziamo Daniele Ricciuto per essere stato con noi oggi in regia grazie a voi che ci avete seguito da casa a voi tutti buona giornata